Le fonti Instant Focus per approfondire uno dei temi caldi del momento che continua a rimanere caldo, quello delle materie prime, sembra quasi che ogni settimana si vada a inserire qualche aspetto e qualche elemento che lo rende sempre più rovente, un po' come il clima che è cambiato improvvisamente ed è arrivata praticamente l'estate, ma a parte questa parentesi che apro e chiudo naturalmente, ci concentreremo proprio sulle materie prime e cercheremo di capire che cosa sta accadendo, soprattutto sul fronte del gas e del petrolio, chiaramente con le questioni geopolitiche, ma non sono le uniche, che stanno andando a incidere sui prezzi delle materie prime. Allora, intanto io saluto Carlo Vallotto, buongiorno Carlo, ben trovato e grazie per essere con noi. Buongiorno Manuela, grazie a voi, oggi l'intervista anche telefonica perché qualche problemina ce l'abbiamo. Eh va ben, comunque, tra telefono e video ci siamo, l'importante è dare le giuste informazioni e te ne devo chiedere tante oggi Carlo, perché intanto guarda, per fare una panoramica generale sulle materie prime, ti riporto una considerazione che è stata fatta dal ministro delle politiche agricole, Patuanelli, che ha detto che la crisi delle materie prime pesa di più di quella del Covid. Partiamo da qui, cosa ne pensi e insomma dove ci sta portando effettivamente questa crisi delle materie prime e di cui parliamo già abbondantemente da tempo? Sì, allora la situazione della materie prime naturalmente ha una duplice, diciamo così, di sviluppo nel mercato. Il primo è quello dell'aumento dei prezzi e in qualche modo lo abbiamo visto, insomma un aumento dell'inflazione, un petrolio che sta correndo penso per i 100 dollari, un oro che invece al contrario è abbastanza sottovalutato, lo avevamo sottolineato altre volte, tornando all'energia anche il gas, natural gas insomma continua a correre, 7,70 quindi dollari per milioni di più. Tutto questo ovviamente il prezzo di materie prime continua ad alimentare quello che potrebbe essere l'inflazione, quindi insomma una stretta monetaria. Dall'altra parte, diciamo che dal lato prezzi naturalmente questo potrebbe impattare in questi mesi qua normalmente, visto anche le precedenti escuzioni di prezzo, quando ci furono dei picchi di inflazione, dei picchi di inflazione tra le materie prime poi sono rientrati, però questo potrebbe essere anche una situazione diversa dalle precedenti, ovvero avere dei risvolti soprattutto nel settore alimentare, temo anche più in là, quindi riprendendo la tua frase iniziale, diciamo che potremmo trovare la seconda ondata, chiamiamola così, più avanti nel tempo, ci auguriamo di no, però insomma questo dobbiamo guardare un po' la realtà. Certo, infatti poi il Ministro Fatonelli ovviamente faceva riferimento più al comparto, cioè le materie prime agricole, chiaramente però poi io l'ho esteso un po' come considerazione generale perché il ragionamento va fatto a 360 gradi, per esempio si sta dicendo la missione del comparto agricolo è produrre cibo, avere un'agricoltura a minore impatto ambientale, sono tutti, è un po' quello che ci ripetiamo ogni volta, Carlo, certo sono tutti quegli accorgimenti, quei procedimenti che però necessitano del tempo e quindi chiaramente la preoccupazione resta ben tangibile. Senti Carlo, allora, poi andiamo anche sull'oro, sul petrolio, però partiamo a questo punto dal gas, dove io ho messo in evidenza questo balzo del 9% che abbiamo visto ieri, perché c'è stato questo balzo del 9%? Ci sono molte preoccupazioni proprio per quanto riguarda le forniture, grazie regia, cambiamo il titolo così, introduciamo proprio questo tema che è fondamentale del gas, a causa delle preoccupazioni per le forniture dalla Russia in transito in Ucraina, quindi sempre al centro le preoccupazioni che derivano dalle tensioni geopolitiche con la preoccupazione proprio ampia che possa di botto, insomma, stopparsi il collegamento proprio per il gas con tutte le conseguenze del caso, ma anche il rallentamento porta a un aumento dei prezzi, è chiaro, no? Allora, partiamo da qui e parliamo del gas in prima battuta. Sì, ecco, sicuramente le notizie si susseguono abbastanza, in maniera abbastanza veloce, insomma, in queste ultime settimane, prima avevamo visto Bulgaria e Polonia, insomma, alle quali erano stati chiusi i rubinetti, oggi per motivi, si dice per motivi tecnici non è più sicuro far passare il gas attraverso il metanodotto che passa attraverso l'Ucraina e questo, diciamo, potrebbe influenzare le forniture. L'Italia si dice non essere preoccupata in questo senso qui, naturalmente, allarmata questo potrebbe essere. Noi abbiamo abbastanza una buona diversificazione da quello che ci ha dato a sapere, insomma, quindi altre forniture. Dovrebbe partire a breve il nuovo metanodotto ListMed che proviene dall'Oriente, quindi entrare in Europa attraverso la Grecia, Bulgaria e anche attraverso un nuovo metanodotto in Italia, costruito proprio negli anni della pandemia, quindi anche con grandi difficoltà. Il prezzo del gas che sta continuando a crescere, siamo sopra i 7,85 dollari per milione di BTU, di unità britanniche. Parliamo un attimo, lo fotografiamo dal punto di vista tecnico, siamo ben lontani, molto sopra la media mobile a 200 periodi, media utilizzata dagli investitori, dai grandi investitori per cercare di capire le tendenze annuali. Siamo anche al di fuori un po' di quelle che sono le tendenze stagionali, normalmente in questo periodo il gas è più tranquillo per riprendere invece eventuali movimenti a giugno. In questo momento sul tavolo del gas, nel pentolone delle notizie che arrivano sul fronte del gas, ci sono molteplici influenze, una di queste se l'abbiamo appena detta, altre dal punto di vista meteorologico hanno trovato delle difficoltà a causa del freddo molto intenso Centro America, quindi molti metanodotti sono stati anche bloccati, anche questo senso qui ha spaventato molto, ha preoccupato molto gli investitori di una situazione che già era molto tesa. Che cosa ci possiamo aspettare? Ci possiamo aspettare che questa zona qui dagli 8-9 dollari sia una zona, vogliamo augurarci un po' di arrivo dei prezzi, al momento nel breve periodo potrebbe aver trovato gli 8 dollari, potrebbero essere un prezzo abbastanza elevato dal quale eventualmente il gas potrebbe rallentare in barra, diminuire. Ecco, il problema grosso naturalmente è questo ampliando la visione nei prossimi sei mesi, che cosa potrebbe succedere? Bisogna vedere sostanzialmente se si trovano delle soluzioni relativamente veloci alle forniture di gas. Quello che dicevamo prima, Carlo, che questi processi sono lunghi, o meglio, non si possono prevedere poi le tempistiche, quindi arriviamo lì assolutamente, questo è un punto importante. Un punto importantissimo, le tempistiche sono lunghe perché anche lì si parla del gas naturale, liquido, del GNL, Australia e America sono i principali produttori, insomma molti flussi che addirittura erano andati in Cina, la Cina li ha switchati verso di noi proprio per motivi di trading economico, nel senso che costando di più, vendendolo di più di quello che l'aveva pagato, naturalmente la Cina ha fatto i propri conti in tasca e quindi l'ha rivenduto all'Europa. Molti paesi dell'OPEC hanno indicato come verranno in aiuto all'Europa senza grandi difficoltà, però naturalmente sono tempistiche che necessitano proprio materialmente della costruzione, quindi capiamo bene anche dal punto di vista burocratico. Diciamo che l'ipotesi di sei mesi, un anno per la costruzione di digasificatori, ovvero di strutture che riportano al gas liquido, allo stato gassoso, insomma ci vuole un po' di tempo, ci vuole materialmente un po' di tempo. Tutto questo in vista di che cosa? In vista del prossimo inverno, quindi si sta lavorando alla cremente per cercare di trovare una soluzione all'eventuale perdita dell'eventuale sanzione decida dall'Unione Europea verso il petrolio russo. Allora, titolo Petroglio, perché adesso parliamo del petrolio, io ho messo in evidenza come l'OPEC abbia detto che i prezzi potrebbero salire, adesso spiegheremo perché, adesso arriviamo tra un istante al tema OPEC, cioè in realtà è uno dei temi che andremo a analizzare, i prezzi del petrolio sono in crescita, però ti chiedo se secondo te sono sulla strada per un calo settimanale, visto che è la chiusura della settimana, insomma quali sono le tue previsioni in chiusura di settimana? Ovviamente a sostenere il prezzo del petrolio abbiamo le preoccupazioni per un'offerta ridotta causata proprio dalla guerra in Ucraina e questo lo ripetiamo ma è sempre lì e poi le prospettive che l'Unione Europea proprio proceda con l'embargo e quindi con l'inserimento nel sesto pacchetto di sanzioni che riguarda proprio il petrolio, però abbiamo visto che non c'è proprio un'unità di intenti e anche per questo la Presidente della Commissione Europea ha detto che forse per questioni urgenti non ci dovrebbe più essere l'unanimità da parte dei paesi proprio per procedere con più velocità rispetto a queste decisioni. E appunto l'OPEC, così almeno ti do la parola, pare che voglia tagliare le stime, anzi ha tagliato le stime giusto sulla domanda di petrolio per il 2022. Questo cosa significa Carlo? Vedi tu da quale aspetto partire? Possiamo anche partire proprio dall'OPEC se vuoi. Sì, mensilmente l'OPEC fa questo resoconto, insomma questo report mensile dove analizza i flussi di domande offerte sostanzialmente. L'OPEC riassumendo proprio in estrema sintesi cosa ci dice? L'OPEC dice che siamo un po' indietro con le forniture, nel senso che in molti paesi abbiamo naturalmente la Russia che sta mancando le forniture anche se i flussi sono stati abbastanza regolari. L'OPEC è la Russia che fa parte delle OPEC, ricordiamolo. L'OPEC che indica una diminuzione di domande, non tanto di offerta, che comunque è molto in difficoltà l'offerta a crescere ancora in questo senso qui. C'è un po' di aumento di produzione da parte di alcuni paesi però difficilmente si raggiungeranno livelli molto elevati, quanto purtroppo della domanda soprattutto da parte della Cina con il rallentamento a causa dei lockdown severi, molto severi a causa del Covid. Quindi diciamo che c'è questa duplice visione da parte dell'OPEC che ha stravolto in qualche modo tutto ciò che era le sue politiche precedenti. Un altro stravolgimento che ha portato l'OPEC che ha detto che se in precedenza, se nello scorso mese di aprile aveva detto che a chiare lettere non aumenteremo assolutamente la produzione, la produzione rimarrà così com'è. Invece oggi che cosa ha detto? Oggi ha detto adatteremo in maniera più flessibile la produzione aumentando visto che siamo molto indietro con la produzione anche perché le scorte strategiche sono scese di molto. Diciamo che è una situazione sul settore del petrolio piuttosto complicata perché abbiamo problemi geopolitici, problemi proprio tecnici di produzione, spedizione di navi petrolifere dalla Russia. Insomma ci sono veramente tantissime problematiche nel settore del petrolio che impensieriscono gli investitori grossi, le banche d'affari, i fondi di investimento. Quindi inseriamo questa sanzione ulteriore da parte dell'Europa verso il petrolio russo. Difficile non entrare nel merito, però credo che sia una decisione forse a mio avviso e naturalmente forse non troppo idonea in questo momento, anche perché in questo momento non abbiamo delle risorse che potrebbero aiutarci a coprire l'enorme buco che verrebbe a crearsi. La Russia d'altra parte potrebbe anche abbastanza velocemente switchare i flussi dall'Europa verso l'est, verso la Cina, quindi diciamo che grossi problemi anche se non è proprio così la situazione perché non vi sono ancora le strutture adatte. Tutto questo per dire che c'è veramente molta, usiamo la parola confusione nel settore dell'energia, nel settore del mercato petrolifero, barra del gas, perché appunto ci sono tante situazioni molto importanti, sanzioni, produzione in difficoltà, diminuzione della domanda a causa lockdown in Cina, quindi molti paesi, Libia, Kazakistan che sono alle prese con problematiche tecniche, la Libia soprattutto anche con un altro tipo di problematiche, quindi diciamo che il settore dell'energia, il mercato del petrolio veramente è difficile trovare il fair value del prezzo, quindi oggi si quota 107,50 dollari per barile, settimana che tendenzialmente si vede chiudere in leggera flessione, è rimbalzato sul livello dei 102 dollari, però ecco attenzione perché naturalmente proprio in questo momento qui nulla è scontato nel settore del petrolio. No, 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 assolutamente io stavo guardando anche graficamente, insomma adesso è il rialzo, abbiamo il VTA a 107 e il Brent a 109 e poi come dici tu, insomma ci possono essere sali e scendi come abbiamo visto in questi giorni, ma insomma nulla è da dare, da prendere per buono insomma, né in un caso né nell'altro. Senti, visto che siamo già sul grafico, andiamo sul grafico dell'oro, lo hai nominato poco fa, in tutto questo contesto di incertezza in cui non solo si parla di inflazione ma si comincia a parlare di stagflazione, recessione globale, quindi insomma con tutte le cautele che adesso si stanno prendendo l'oro continua a rimanere un po' appeso, cioè gli investitori non si fidano più del gold. Sì, esatto, diciamo che sostanzialmente in questo momento sì, non si fidano più del gold, è strano insomma anche perché voglio dire da questo punto di vista l'oro insomma è molto sottovalutato ormai per chi ci segue, lo abbiamo detto tante volte, sotto i 1900 dollari, sotto i 2000 dollari, l'oro comunque comincia a essere veramente molto sottovalutato. Gli investitori in questo momento non riescono anche qui, non riescono a trovare il fulcro della situazione, non riescono a trovare il bandolo della matassa, nel senso che rialzo dei tassi interesse. Powell proprio ieri in una trasmissione telefonica ha indicato come nelle prossime due interventi della Federal Reserve, due riunioni della Federal Reserve, ci aspetta addirittura altri due aumenti di 50 basis point, quindi insomma abbastanza incrementi, abbastanza importanti. 75 probabilmente non ci saranno, però due da 50 ci saranno, ciò non fa bene all'oro soprattutto nel breve periodo. Nel più lungo periodo invece il rialzo dei tassi interesse ha una visione completamente diversa dal punto di vista macroeconomico, l'Accademia ci ha insegnato questo, gli studi accademici ci ha insegnato questo. Quindi diciamo che l'oro in questo momento è molto sottovalutato, si trova sotto i 1800 dollari e probabilmente credo io che vorrà addirittura senza voler dare consigli di investimento, però diciamo che tendenzialmente io penso che l'oro lo dovremmo rivedere ancora a valori un po' più bassi. In questo momento siamo in ipervenduto, quindi un rimbalzo verso 1850-1860 ci può stare, però per rivedere effettivamente un'inversione di tendenza almeno dovrebbe salire 1930-1950, sono una centinaia di dollari sopra gli attuali. Al momento io credo che rimanga per manco una debolezza anche in vista di una discesa, di una ricrescita dei tassi di interesse nel costo del Leonardo. Inflazione che continua a galloppare, quindi ecco perché dico l'oro è sottovalutato con un'inflazione dell'8%, tendenziale oltre l'8%, 8,3% abbiamo visto nella lettura di qualche giorno fa, l'oro dovrebbe essere schizzato a rialzo, cosa che invece non c'è stato. In questo momento io credo che ci sia un po' tra virgolette un inizio di rivoluzione nei mercati, abbiamo visto anche le criptovalute crollare, credo che in questo momento ipotizzo che gli investitori vogliono rimanere molto liquidi e anche si vede dai mercati, sia dagli indici che dalle materie prime, i volumi tendenzialmente sembrano essere inferiori, quindi la mia ipotesi è che si venda un po' di tutto per rimanere liquidi e questo non fa certamente bene ai mercati. Sembrano lontanissimi i tempi in cui io e te parlando dell'oro e dell'argento, per esempio diciamo dai acquistiamo anelli eccetera per San Valentino, ricordi discutavamo un po' sull'anticio per far aumentare insomma le quotazioni. Un anello a San Valentino insomma comunque male non fa, non è sempre mai… E ma dobbiamo aspettare il prossimo? Ormai dobbiamo aspettare il prossimo. Ma no, non mi rivolgo a tutti, non bisogna aspettare San Valentino per regalare… No, 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 assolutamente, assolutamente, rivolgiti pure… Eh sì, dimmi. Rivolgiti pure a tutti quanti, dici che non dobbiamo aspettare San Valentino ma possiamo farlo in qualsiasi momento giustamente. Poi mi rendo conto che insomma con i prezzi alle stelle in generale il tema dell'inflazione e anche fare questi acquisti in questo momento risulta un po' complicato, insomma ovviamente era una battuta perché io e Carlo abbiamo parlato molte volte quando non c'erano questi scenari di mercato che stiamo analizzando oggi di queste possibilità. Allora, Carlo Vallotto io ti ringrazio moltissimo, ci sentiamo presto su Le Fonti TV, ti auguro una buona giornata. Grazie a voi, un saluto, buona giornata a te e buona giornata a tutti. Grazie a Carlo Vallotto.